Punto primo, io non ho promesso in questa campagna elettorale che avrei tagliato le accise sulla benzina, banalmente perché sapevo qual era la situazione di fronte alla quale mi sarei trovata. E vi dico di più, un'altra cosa va fatta subito, da subito, da subito, da subito. Proposta che Fratelli d'Italia porta avanti da qualche mese per la verità, da qualche settimana con maggiore insistenza. Se la bolletta aumenta, aumentano anche gli introidi per lo Stato, perché lo Stato ci guadagna l'IVA. Allora, prima regola, lo Stato non ci può guadagnare in questo disastro, per cui mi devi tagliare tutti gli oneri della parte eccedente, cioè della parte dell'aumento. Su tutta l'aumento lo Stato non si prende né le accise né l'IVA. Prima regola, l'Italia è in bolletta. Altra cosa che si può fare subito, sai che si può fare subito, sai che si può fare subito, sai che si può fare subito. Punto primo, io non ho promesso in questa campagna elettorale che avrei tagliato le accise sulla benzina, ma realmente perché sapevo qual era la situazione di fronte alla quale mi sarei trovata. Grazie.